Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! E' quello tipo con gli occhiali. Togliti, togliti, togliti! Eh non c'è, non lo vedo amo. Eh magari è nell'altro pare. Eh andiamo al tavolo. Andiamo al tavolo. Amore scusate c'è il tavolo pronto per noi. Ci vai dopo per mezz'ora dai adesso non è che il resto di stare qua con noi a fare talk show. Adesso tu ti sei voluta prendere i follower, ascolta basta fare la tossica rimasta. Ma piccia tutta dai. Ok. Ok. No! Come bruciete il tempo Kim Infatti? veronio spiaggia andiamo in spiaggia andiamo in spiaggia tra poco andiamo adesso guarda che sono un cavallo ragazzi un po' di privacy scusate dammi un bacino possiamo rivederlo? replay? eccolo no 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 sono amici signori di Twitch sono amici loro sono amici siamo tutti amici raga siamo tutti amici siamo amici raga amici raga è un po' di potenza, bancho bro questo è carico ma fai la foto armare il cao armare il cao del brasil oh cacchio armare il cao del brasil armare il cao del brasil oddio esce il quotidiano dai dai metti una storia con Sara se te la meriti la mettiamo metti una storia con Sara no ma no ma questo è tre no ma scusami è giusto così effettivamente è giusto così si cazzo volete i follower succhiateci il cazzo no prendo le distanze prendo le distanze prendo le distanze assolute nooo stavo scherzando mi dissocio completamente cazzo io non ce la faccio è troppo per me tutto ciò ma ci dissociamo però un po' di verità vabbè ti puoi coprire da sola? ma vabbè cosa dobbiamo fare? dai allora ragazze la prima regola è parlare più vicino possibile che potete al microfono ah stavo vedendo se le ha portate Mauro si e bro ormai le ho già chiamate me le ha portate li a tiri le per dopo bro tiri le per dopo bro no 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 eh scusa proprio io tarzan nazionale piacere se ne ammio eh fino a quando stai a riccione? fino a domani quindi oggi è l'ultima sera cosa fai stasera di fello? scoppio cosa? scoppio con chi? con chi mi capita eh con ah già allora c'è Francesco poi c'è Demetrio Demetrio secondo me sei gabrone te ma sto scherzando proprio però ci sta comunque ci sono tanti strade è lui è lui questo va bene fayon vami a cercare fra mettimi il follo o altro che gabrone fra lorenzo fayon fra fai fra cazzo dici fra gabrone è un coglione fra sè? lorenzo fayon con ma che cabrone ma sto scherzando fra ma non paragonarmi a quello scemo fa salutà? non paragonarmi a quello scemo fra che l'ho spaccato di botte l'ultima volta che ho visto a Milano sto scemo bro giuramelo giuramelo Bro, ma che cazzo devo giurarti? Sono io, porco Dio, ma vami a cercare, no, bro. Ma questo sta fuori, bro. Ma gabrone, ma secondo te io sono il gabrone, bro. Ok, di chi di lo abbracciate. Ma Jon, stasera live, un po' di alcol, un po' di cavalline, un po' di crema, di cane. Ieri mai cacciato via, però. No, ieri, più oltre, non c'era spazio. Ma ragazzi, grazie. Tu da qua, come perché sei rimasta qua? Eh, ma non c'era qua. No, stai scherzando, scusa. No, dai, non scherza. Come no? Oh, vai tranquillo ste. Buona serata. Buona serata, buona serata. È un po' come darvi da qui organizzandoli. Vieni. Sempre bene. Ma tu che cazzo stai con i miei fratelli, capri? Vabbè, lasciamo decidere le ragazze. Cosa? Adesso, sentenza. No. Oh, lei dice sì. No, lei è un mio madre. Lei dice... Lei dice di sì. Lei dice di... Esatto. Che gabrone, che stai combinando? Adesso che io sono ci rude e faccio gol, se tonale mi passa la palla. Non guardarlo con questi occhi. Allora, visto che tu, Sara, stai in braccio a Daniele, io mi sederò qua. Sì, mi imbracciano a Martina. No, non dite... No, non dite... Torto. Ti posso fare un massaggino qua, amore? Un'altra volta è il parcheggio. Sì, io gli dicevo ne voglio ancora e lui ancora. E io sì, ancora. Mica, quanto cazzo ne volevi, scusa. Non potevi prenderne un altro per switchare, scusami. Allora, lui, poi non so, mi sono limonata altri 9 buttei e basta. Altri? No, dai. Scusa. Altri 2-3 ragazzi. Ma questo ragazzo che ti sei scopata nel parcheggio, come l'hai conosciuto? Siamo su TikTok. No, Twitch. Conosci Twitch? È un po' nell'altro mondo. Ma scusa, lui è sembrato. Ciao, TV 2020. Ma scusami, no, 2022 in verità. 2022, ho voglia di cazzo. Sì, però c'è già, come si chiama, Dimetrio, che è il barista del Sanzara. Aspetta, silenzio tutti! Ma sono due, bro, non è... Scusi, scusi, scusi. Smerta. Ragazzi. Federico. Federico. Di nuovo, scusami. No, basta, eh, porco Dio, ma poi diventa... No, non ci vuole più. Poi diventa... Ragazzi, la mia borsa? Per essere magistrato non basta, studiare ci vuole un'etica, cerca la che sembra distante.